Perché un corso di lettura espressiva? Perché tutti siamo chiamati attraverso le nostre parole a trasmettere sentimenti, emozioni e stati d'animo. E la lettura espressiva è proprio questo, il pieno coinvolgimento di chi ascolta e di chi legge. Dovremo sicuramente sviluppare un'ottima capacità di ascolto e far sì che le nostre parole diventino una sorta di musica che esalta il contenuto di ciò che stiamo leggendo. Frequentare un corso di lettura espressiva è una bellissima esperienza per tutti, per coloro che delle parole ne fanno il loro mestiere, per chi semplicemente ama leggere, per chi crede nella comunicazione verbale quale scambio di sguardi, relazioni e parole. o visita il nostro sito www.recitando.it